Chris Garner, chiamavo per ringraziarla per il sostegno al seminario del mese scorso. Sì, certo, certamente. Sì, d'accordo. No, solo questo. La ringrazio molto. A presto. Chris, vieni. Come va, Chris? Signore, lieto di vederla. Bella camicia. Grazie, signore. Chris. 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 Ho pensato di mettere la migliore che avevo, essendo l'ultimo giorno oggi. Grazie, grazie. Lo apprezziamo molto. Ma io ne metterei una anche domani, d'accordo? Perché domani sarà il tuo primo giorno di lavoro. Sempre se vuoi lavorare qui come broker. Ti piace l'idea, Chris? Sì, signore. Bene. Siamo molto felici. Allora, benvenuto. È stato facile come pensavi? No, signore. Non l'è stato, signore. Beh, buona fortuna, Chris. Grazie. 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 Grazie, signore. Ah, Chris. Quasi dimenticavo. Grazie. Questa parte della mia vita, questa piccola parte, si può chiamare felicità. Grazie. Grazie. Cristo! Vieni qui! Vieni qui! Allora, quanti pianeti ci sono nel sistema solare? Sette! Sette? Nove! Chi è il re della giungla? Il gorilla! Il gorilla? Il gorilla! Il leone! Ah sì, il leone, il leone! Ehi papà, senti questa! Toc toc! Ah, chi è? Sara! Sara come? Sara come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te! Toc toc! Chi è? Nessuno! Nessuno chi? Nessuno chi? Questa fa ridere, è piaciuta!